Bentornati amici di Granoff Gamers Un pezzo di Granoff Gamers è questo, quello che vi parla quasi sempre in questi video L'altro pezzo è questo pezzo di gnocca qua davanti Creebox Sei un pezzo di gnocca Aspetta, pezzo di gnocca che devo prendere Ecco, perché mi spara Ellis? Perché fa Ellis? E' impazzito? Ah, ci sono arrivati i mostri Sono arrivati i mostri Sono arrivati pure incazzati Vabbè andiamo, a sto punto partiamo Sono arrivati i mostri incazzati Io e Creebox Alla conquista dei mostri Occhio che qui arriva il fottio proprio La tua prima partita su Steam Ecco, il carto ce l'avevo io Paramo se Uh, mi sono scordato Aspetta un po', torniamo un attimo indietro Mi sono scordato di prendere la salute Lì è qua dietro, lì è dietro, lì è dietro Ah, non c'era più Benissimo Ho sparato a te Ma sì, ma che ci frega Abbiamo riscoperto un vecchio gioco che giocavamo con 360 Occhio, occhio, occhio Lo ricordi, sì? Avevamo giocato il primo insieme, mi sa Oppure Oppure il secondo, un pezzetto Che? Allora No, la katana lascia la sta Oh, una botta tutacche Vai Il mio sogno è fare una partita Io, te e Matteo Sia il piccolo Che quello grosso che dice un sacco di sfondoni Via della pipe bomb La bomba delle pippe qua Eh? Qui Vediamo un po' qua dentro ci si entra, no? Non c'è fan tra Qui ci stanno Vabbè Uh, ancora 100% Incredibile Oh, figo il fucile da cecchino Sto giocando contro le cose Eh, beh L'ho provato pure io Poi alla fine mi sono trovato meglio col pad Dicci qualcosa di te, Kreebox Superfregna Lara Croft Aspetta, fermate, fermate, fermate Fermate Tu sei Lara Croft Aspetta Ecco Ed è un Sì, ci vede, aspetta Chi è? Chi è? Eh beh Aspetta, se stai fermo ti guardo il culo Aspetta Aspetta Eccoci qua Sì, sì, sei tu Oddio, vedi te Ah 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 È molto inquietante Allora, ed è qua Hunter, occhio Oh, un'altra pipe bomba Leva delastro verde qua Non sparare nessuno Perché tanto Mi hanno dato la bombetta Il nulla proprio Che che me curi? Ah Nick, che me stai a curare? Ma ce l'ho, vabbè io dopo non te curo io i botni li curo chi c'è sta? oie con sta spada una seconda pistola ottimo il pompa dorato che non è Federico d'oro che sei si? ho capito senti che bella voce che c'hai anche una voce sexy che poi sarebbe la voce di Rochelle non lo dirò mai più qui per terra c'è sta l'adrenalina abbiamo pure l'adrenalina qui che c'è? una accetta ok occhio dietro oh oh mi ha preso a me a te ci ha preso che culo ragazzi ci aiutate? grazie come morire subito guarda ste bip e te bot che abbiamo preso ma Rochelle Ellis mi potresti sparare a questo qui brutto stronzo mi hanno ammazzato no vabbè ammazzate che botta de merda che c'avemo ma guarda che botta de merda che c'avemo ma non esiste ma non esiste vogliamo provare a me mi ha preso quello con la lingua mi ha tirato là sopra ma fa culo molto evidente te mi recuperi le bitti a bassi e là sopra ci sono io pronto che vi aspetta dietro ti hanno salvato il culo a proposito di culo io sto sempre guardandoti il culo che dobbiamo fare devi andare su su bravo sali su tutto insanguinato tutto insanguinato tutto tempestato da sanque Lara Croft che non fa i salti Nick mi ha salvato ci sono eccomi sono dove sto ho sbagliato tasto ok quindi venivamo da là benissimo la tanica apriamo perché si sa mai dove andiamo da qui mi avete salvato quindi dobbiamo ripartire da qua perfetto andiamo su saliamo su io mi porto la tanica era witch non la sveglia porca mignotta proprio qua sta lei davanti dietro chi ci maniamo l'unica cosa che potremmo fare torna indietro e spara torna indietro torna indietro e spara a quella torna indietro ho un fastidio ora via con me mazza mi ha messo per terra già grande marzatemi quindi abbiamo fatto anche questa prova provare a dar fuoco alla witch non ha senso perché si avvia sempre con quello che spara alla oh oh dove stanno no ok ok ce l'abbiamo fatta molto scuro città zoccola ora da qua oh cazzo il boomer dov'è il boomer bravo dobbiamo scendere da qui ci siamo arrivati qua sopra aspetta che aumento un po' la luminosità ok forse è meglio benissimo ora da qui dove cazzo dobbiamo andare di qua che forza guarda guarda che belli eh zittate oh di qua no chi è che bussa ah un alien dobbiamo andare là sopra noi ok su lo slenderman l'abbiamo abbiamo ammazzato perché tappi con me addestite più ma va fanculo qua dentro che c'è amo munizioni che faccio più questo abbiamo questo che meglio I got the pills I got the pills creep box andiamo andiamo a rompergli il culo ti sento un po' tuffato mi sento tuffato un pochino dannato dannato l'hunter non sa che corpo che mi ha fatto prende tocca scena da qua oh ecco è morto strano che non mi dia a me adesso mi sono sempre addosso a me che dobbiamo accendere ah dobbiamo andare attaccare occhio dobbiamo andare attivare l'interruttore pronto vieni qui che si apra la giostra ricarica e corri ma non lo dico eh dobbiamo andare a finire sopra le montagne russe per passare sto pezzo vieni 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 levati ah mi ha preso la lingua ma che è una witch ma sempre io avvio a witch ma rimortacci i tuoi witch di merda ma brutta merdaccia di witch quanti ne siete ancora? tanti? ok spegna aggiostra andiamo a spegna aggiostra oh eh delutter cazzo e mi sto di per terra un'altra volta ma che è? alla prossima moro bello ho esordito bene sta partita no dammela una crocca oh ma quanti cazzo siete no no ho urgente bisogno di medikit finito quelli di corpi nient'altro vabbè ma è un fottio dobbiamo andare no non è caso da corpo a corpo qua no quindi dobbiamo andare di qua adesso no che davvero si vabbè pure il giochi dai e basta ma che ma che cazzo dai ricominciamo aspettamoli che arrivano mettiamose qua ah c'è uno slenderman eh già sei partito si ah perché fate dentro voi bene lo smoker è andato sto più cazzuto adesso è rotto ce l'avete rotto il cazzo si è bloccato tutto ci and questo è il Questa è la cosa? ci siamo? andiamo di qua ma sono qui andiamo a romper culo la pipe bomb c'è qua e la pipe bomb tutto c'è ma quando escono fuori tanti tiriamo i pipe bomb perché loro va con il mouse oh il boomer va aspetta che arriva acchiappo da qua guarda che bastardo si mette qua dietro sta là dietro tiè mori strunzo ciccione pallone gonfiato cor destro gli dà la grocca andiamo dritti e che cazzo il tanker charger l'ulto e due eh sì la lingua niente altro ma io non lo so ma per chi fa un culo smoker del cazzo oh perché non mi devi far rialzare ah perché devi stare a far rialzare quell'altro curate mi curo pure io ma dimmi te già siamo partiti già mi devo curare oh 82 ma che c'è qua già mi devo curare 300 volte arriviamo a punizioni come mouse destro respingi e sinistro spari con la rotella cambiarma e poi faccio il corretto 5f accendi e spegna la torta la torcia ma sei tu quello là su mi è giù da solo porca puttana ma perché non mi venite dietro perché convinto che c'è no 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 so io che è colpa mia che vado troppo avanti però mi hai convinto che state dietro mi è giro e non ci sta nessuno mannaggia perché poi io non capisco perché i bot seguono a te ah beh è giusto ma è giusto ma è giusto lo smoker sì no non è lo smoker questo che cazzo è sì vabbè ma io mi devo ricurare a parte che mi vedo un cazzo con questo buio qua mi curiamo se poi io sono master chief oh yeah andiamo da qua ecco la troia ora siamo cavata pietra la pipe curate cazzo cazzo charger torna indietro torna indietro vedo un cazzo qua perché l'attamo che arrivano dove sta sto stronzo munizioni esplosive a terra guarda 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 dove sei? dove sei? ah stai lì dove sta lì? ho fatto un po' flambe Creebox che si prova da admin di ClanoOfGamers.it a giocare una partita con il PC a Left 4 Dead uno gioca a 250 giochi, li prova tutti e poi alla fine per divertirsi si mette a giocare a giochi usciti 3-4 anni prima chi è? Aircharger, preso in pieno grazie grazie a Nick che mi ha aiutato potevi anche andiamo da qua prendo la motosega perché? ah figa la motosega no vado avanti io che ho la motosega venite a fare un percazza adesso la motosega è uno spettacolo ecco volevo fare lo stronzo con la motosega con la witch invece lo stronzo mannaggia proprio qui stava guarda se l'hanno messa a mezza dove dovevo passare dove è la mia motosega ah eccola no gattaglio la motosega è la seconda arma quindi al posto delle pistolette troppo bella dovrebbe essere una stanza sicura questa forse no 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 Cosa che io mi devo cura Cosa che io mi devo cura Cosa che io mi devo cura Ok, qui ci siamo tornati Nella moto prima Questa merda come scappa No, la mia moto sega Ha finito l'effetto No, la moto sega era fantastico Cosa che io mi devo curare Te sa da curare C'è uno schifo Ah, guarda quanti ne so Vamone salì, vamone salì Vieni E qui è il cuo Chi è? A giochi Sono merda, me via sempre a me Parla un po'? Mi sento solo blufufufufu Ah, ok Sono di qua ci siamo? riproviamo al pezzo di prima con la chitarra a mano te rompono tutti il culo fatelo di danni italiano allora vado a scendere la macchinetta attivo l'alimentazione del comando della giostra e te pareva che non c'è stava una witch ma che cazzo il livello è? dentro dentro, via seguimi, seguimi, non vi fermate a sparare tornate indietro, seguitemi intanto ce n'avevo da ammazzare eh, turn it off, mi ha preso l'hunter ok, vado a provare a spegne copri me provando a spegne chiusa la giostra, ok ecco lì, dietro mazza che bordello aspetta che mette munizioni esposive prese dopo un'acqua su no, per qua no perché ne va? dovete qua allora per forza ah, witch ellis sei presa qua ellis vai tranquillo mori troia detto proprio molto ah, turn it off guarda che se nasconde sto schifoso via, via tenna lo sto schifoso no, è il boomer ah, meno male ecco la stanza sicura sarta e via qua a posto ottima chiudiamo sta porta oh l'hanno finita, eh ah, ottimo che dire io direi che poi la stavolta lascio a te l'onere di salutare eh? ciao a tutti come? sì buonanotte a tutti da? 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 ottimo scusami ottimo notte ciao 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 Grazie a tutti